di nuovo in onda cari amici di live social sempre qui su radio news 24 andiamo a salutare tiziano lovisotti che con noi in collegamento telefonico ciao tiziano ciao buongiorno a tutti allora tiziano tu in questo momento soprattutto in questa quarantena sei una figura professionale molto importante soprattutto perché le aziende stanno cominciando a cambiare il loro modo di azione ecco vogliono andare tutti quanti online perché questo è quello che richiede la vita in questo momento se un social media manager ecco raccontaci un po quello che fai allora io praticamente mi occupo di gestire i profili social e le pagine web di aziende imprenditori piccoli e medi in questo momento diciamo che l'italia su questo punto di vista era leggermente più indietro rispetto ad altri paesi ma questo questo virus che ci ha imposto la quarantena ha portato avanti questa figura ha accelerato questa fase no tiziano esatto esatto sì ecco qual è il consiglio da dare alle persone che in questo momento vogliono mettersi online cioè darci visibilità in questo modo creando un marketing web web marketing ma ma io consiglio a tutti di puntare principalmente per iniziare attraverso la pubblicità sui social sia chi poi può anche vendere il proprio prodotto attraverso internet per dire creandosi un e-commerce oppure anche chi poi deve continuare a fare il suo lavoro normale offline però può pubblicizzarsi può sponsorizzarsi attraverso internet facendosi conoscere certo certo e tiziano quali sono i costi c'è nel senso costa tanto pubblicizzarsi sui social una cosa accessibile un po' a tutti no assolutamente accessibile perché te e poi anche decidere di spendere uno due euro al giorno quanto ti puoi permettere e mi posti un budget e poi se vedi che la gente inizia a rispondere alle sponsorizzate puoi anche aumentarlo ma la cosa bella importante di queste cose è che mentre quando tu fai una pubblicità su un giornale o fai un volantino chiunque quindi tanta gente non è interessata al tuo prodotto sui social su internet metti una pubblicità estremamente in target che è indirizzata a quelle persone che hanno dimostrato un interesse per quel prodotto per quel servizio che vuoi pubblicizzare ecco quando sono iniziate questo tipo di strategie si venivano a contattare un po' di persone reali e molte fake mentre in questo momento è cambiata la situazione no tiziano si vanno a contattare solo persone attive sì sì adesso andiamo quando vengono diciamo sponsorizzate queste pubblicità sia i social sia il motore di ricerca vanno a cercare gli utenti che sono attivi e non invece non più inattivi quindi riesce a recuperare una parte del budget che prima andava perso perché diciamo veniva appuntato attraverso utenti che tanto ecco magari prima ti dava dei numeri importanti invece adesso ti da un flusso reale esatto sì prima vedevi che i posti venivano visualizzati da un numero assurdo di persone ma le interazioni effettive erano poche invece adesso ci sono meno visualizzazioni ma di contro le interazioni che poi è quello che andiamo a cercare sono molto più alte certo certo tiziano siamo quasi in chiusura vogliamo cominciare a dare i tuoi riferimenti una pagina social o web o un numero di telefono sì sì allora su facebook ho la mia pagina tiziano rubisotti anche su instagram e poi ho anche un blog che è digitalmarketinglinico.net perfetto vai vai col numero di telefono numero 391 79 11 829 benissimo tiziano allora tu immagino sia reperibile in questo momento di quarantena un po' per tutti no? assolutamente sì benissimo quindi per iniziare a lavorare su internet contattate il nostro amico tiziano luvisotti che saluto e ringrazio per essere stato qui a live social ciao tiziano ringrazio ciao a tutti grazie ciao ciao live social torna tra poco con nuove interviste e nuove storie live social